Il pressing esercitato dai presidenti delle regioni più le dovute considerazioni riguardo la tenuta economica di categorie come i ristoratori e titolari di bar e pub hanno portato alla previsione di un nuovo DPCM senza coprifuoco o orari ridotti per queste categorie. Almeno per ora infatti il governo non andrà oltre all'obbligo di mascherina all'aperto e all'ipotesi di maxi multe per i trasgressori. La bozza del documento però apre alla possibilità di chiusure selettive di settori compresi bar e ristoranti e nuovi provvedimenti sul distanziamento fisico in caso di un peggioramento delle situazioni sanitarie legate al contagio. Una possibile riduzione dell'orario di locale ogni modo viene vista negativamente da buona parte degli esercenti che già nei mesi scorsi hanno fatto i conti con chiusure totali e riprese costellate da vincoli alcuni costretti solo con il take away. Sicuramente è un problema da risolvere soprattutto forse non riguardate tanto la zona del centro ma più spostato verso via Torino dove noi abbiamo un altro locale dove lì c'è la movida ci sono i giovani e è più complicato gestire la cosa. Noi penso che riguarda tanto il weekend siccome in settimana comunque abbiamo una chiusura abbastanza anticipata 11-11.30 quindi non cambierà tantissimo solo il weekend qui sarà un problemino. Sarebbe un grosso problema anche perché abbiamo già vissuto un periodo del genere. Quindi speriamo tanto che non vada in funzione questa cosa qua. Quello che si potrebbe fare è un maggior controllo anche per invitare le persone a mantenere una certa distanza, a mantenere un certo comportamento anche perché si vede che non è che protoseguono tanto quanto questi ordinamenti. Nelle intenzioni del governo si seguirà l'andamento epidemiologico solo grazie a questa costante opera di controllo verranno prese ulteriori scelte che potrebbero essere anche più drastiche. Aspetto che di certo vede contrarie alla FIPE regionale. Il suo presidente Bruno Vesnaveri infatti è piuttosto severo sull'ipotesi di nuove restrizioni al comparto. Vuol dire un disastro, vuol dire che noi veramente se ci mettono a queste posizioni noi dobbiamo addirittura chiudere. Tutti i pub per esempio, le paninoteche, non parliamo solo di movida, parliamo in generale di paninoteche, pub che sono sparsi per Trieste fuori dalla zona della movida. Soffriremo tantissimo, lavoro con loro, quindi non possiamo assolutamente accettare e permettere un'altra chiusura.